Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui parleremo dell'aereo che viene normalmente definito come il Concorde sovietico, ovvero il Tupolev TU-144. Vi confesso che non conoscevo tutti i dettagli di questo aereo prima di realizzare questo video, ma li ho appresi appunto per realizzare questo video incrociando diverse fonti che ovviamente ho cercato di verificare e che oggi vi porto in questo video come una lista di eventi storici, tecnici e non solo riguardanti questo particolarissimo aereo. Il Tupolev 144 è stato un aereo supersonico per trasporto commerciale, quindi trasporto di linea e merci, ideato e realizzato nell'Unione sovietica a partire dagli anni 60. Chiamato anche dalla stampa del tempo Konkordski, ovvero la versione russa del Concorde, ha effettuato il primo volo il 31 dicembre del 1968, ben due mesi prima del Concorde. Quindi si potrebbe pensare che il progetto di quest'aereo sia antecedente a quello del Concorde, ma in realtà non è così. Infatti la fretta per approntare questo prototipo e farlo volare prima del Concorde fu anche tra le ragioni principali della disfatta commerciale di questo aereo. Fu il primo aereo commerciale della storia a superare Mach 2 il 15 luglio del 1969 e in seguito ha realizzato un record tuttora imbattuto di Mach 2,5, un record appunto imbattuto per i velivoli commerciali come per esempio il Concorde la cui velocità massima era solo, tra virgolette, di 2,23 Mach. Quindi rimane comunque un aereo da record. Introdotto in servizio nel 1977 poteva trasportare dai 110 ai 150 passeggeri in base alle configurazioni, volare a una quota di 52.000 piedi, che sono all'incirca 16 chilometri, a una velocità di 2.000 chilometri orari, ovvero a Mach 1,6 coprendo una distanza di poco più di 5.000 chilometri con la necessità di avere tre piloti come equipaggio di condotta. Ma partiamo dal principio. Nel 1962 venne presentato un concept, quindi un progetto di massima, di un aereo supersonico all'interno di una rivista sovietica specializzata nell'aviazione. E questo concept altro non era che quello che sarebbe diventato il Tupolev 144 di lì a qualche anno. Nel luglio del 1963 viene approvata dal Consiglio dei Ministri la prototipazione, quindi l'inizio del lavoro di costruzione di quest'aereo, che quindi da questo momento in poi inizia ad essere sviluppato appieno. Pensate che fu utilizzato un MIG-21, che normalmente è così come lo state vedendo in questa foto, in una versione modificata chiamata MIG-21i, dove i sta per imitatar, ovvero una parola russa che significa simulatore. E questo MIG-21i aveva montate al posto delle sue ali le ali del futuro Tupolev 144. Tenete presente che all'epoca non esisteva il calcolo computerizzato e quindi questi erano degli stratagemmi, anche abbastanza economici, per poter collaudare i progetti che venivano fatti. Per quanto parecchio simile al Concorde, il Tupolev 144 era parecchio indietro tecnologicamente rispetto al Concorde. Tra le parti più carenti dal punto di vista tecnologico c'erano sicuramente i motori, i freni e il sistema di condizionamento dell'aria di cabina. Per non parlare di tanti piccoli altri sistemi secondari che erano comunque necessari per la condotta del volo. Una cosa abbastanza evidente quando si comparano i due aerei, oltre alle dimensioni, perché il Tupolev 144 è lievemente più grande del Concorde, sono sicuramente le ali che il Tupolev ha. Infatti, contrariamente al Concorde, che ha un ala delta abbastanza semplice e lineare, quella del Tupolev 144 è a doppio delta. Se notate, infatti, l'ala è spezzata a un certo punto e si possono notare appunto i due delta che compongono l'ala supersonica. Un'altra cosa assolutamente inedita che il Concorde non aveva sono le alette canard estensibili. Queste alette canard potevano essere appunto estese dalla fusoliera e si trovavano vicino al cockpit del Tupolev 144 e la loro estensione aiutava, grazie all'ausilio di slat e flap montati sulle alette canard, quindi una cosa abbastanza particolare. Quindi queste alette consentivano un aumento di portanza che alle velocità di atterraggio faceva molto comodo, poiché queste superfici aiutavano a ridurre le altissime velocità di atterraggio di questo aereo. E proprio parlando di atterraggio non possiamo non citare il fatto che questo aereo avesse un paracadute balistico per frenare le elevate velocità di atterraggio che si aggiravano intorno ai 180 nodi. Stiamo parlando di velocità nell'ordine dei 320-360 km orari circa. L'utilizzo di un paracadute balistico è un esempio più unico che raro nell'aviazione civile, infatti è abbastanza frequente vederlo negli aerei militari, ma negli aerei civili ovviamente no. Questo è stato uno degli ultimi aerei dotati di questa tecnologia per appunto aiutare la frenata durante l'atterraggio. Vi lascio immaginare il costo che aveva ovviamente richiudere il paracadute e poi rimetterlo a posto dopo ogni atterraggio. Contrariamente al Concorde che poteva volare in regime supersonico senza l'ausilio dei post bruciatori, quindi consumando molto meno ed estendendo di conseguenza la distanza massima percorribile dall'aereo, il Tupolev 144 necessitava dei post bruciatori seppure non alla massima potenza per poter mantenere il volo supersonico e questo determinava un consumo di carburante elevatissimo che di certo accorciava la distanza massima percorribile dall'aereo stesso. Pensate che ne sono stati prodotti 16 in tutta la storia di questi Tupolev 144 e tutti e 16 godevano di una pessima reputazione dal punto di vista dell'affidabilità. Pensate infatti che in 181 ore di volo totali, che sono le ore di volo totali di tutti e 16 questi aerei nella storia, il Tupolev 144 ha totalizzato ben 226 guasti di varia natura, di cui 80 in volo durante il volo, di cui 8 molto seri come decompressioni in alta quota e surriscaldamento delle gondole dei motori che potevano portare a danni veramente elevati. Quindi un primato davvero non invidiabile. In più quest'aereo era rumorosissimo. Pensate che la stampa del tempo riportò durante i vari voli offerti ai giornalisti e ai vari passeggeri più facoltosi che era praticamente impossibile parlare a tono di voce normale con il proprio vicino di sedile e bisognava alzare parecchio la voce. E pensate che se lanciavate un urlo dal finestrino ad esempio sinistro verso quello destro, quindi sulla stessa fila, parliamo di poco più di 3 metri, questo urlo era inudibile a causa dell'enorme rumore generato dai motori e dal sistema di condizionamento di quest'aereo. Nel maggio del 1978, durante un volo di collaudo, un incidente segnò la prima battuta di arresto per questo aereo. Infatti successivamente a questa data furono sospesi i voli con passeggeri di questo aeromobile e furono mantenuti soltanto quelli cargo, quindi quelli con il trasporto di posta e merci. Fino al 1983, quando fu definitivamente radiato, totalizzando soltanto 102 ore in totale nella sua carriera di aeromobile. In seguito e per pochissimo tempo il Tupolev 144 verrà utilizzato come addestratore per gli astronauti sovietici delle navicelle Buran e poi in seguito la NASA mostrerà qualche interesse per questo aereo, ma in realtà di brevissima durata, utilizzandolo per ricerche per il volo supersonico. Una cosa molto evidente è che il Tupolev 144 nacque per lo più per motivi politici o ideologici, più che per reale necessità di un velivolo supersonico. Infatti il reale desiderio era quello di scalzare il Concorde, di cui già si sapeva parecchio perché tenete presente che l'idea di un velivolo supersonico veniva fuori già dal 1950, quindi c'era parecchio tempo e già se ne discuteva, per cui il progetto sovietico nacque quando fu chiaro che la Francia e l'Inghilterra stessero ormai sviluppando il progetto di quello che poi sarà il Concorde e quindi i russi in tutta fretta cercarono di portare anche la loro versione di aereo supersonico, ma per ragioni di prestigio. E questo influì in maniera estremamente negativa su questo progetto perché chiaramente la fretta determinò una serie di errori progettuali, come abbiamo visto una serie di punti di inaffidabilità di questo aereo che determinarono la sua sconfitta già prima che diventasse economicamente insostenibile, come poi è successo per il Concorde. E come tutti gli aerei supersonici costava davvero troppo rispetto al vantaggio dato e quindi anticipando di un paio di decenni il Concorde questo progetto fu definitivamente abbandonato. E personalmente ritengo che anche nel futuro, seppur immediato, non ci sarà interessamento reale al volo supersonico, anche se ogni tanto c'è qualcuno che dice il contrario, perché appunto il volo supersonico costa troppo per quello che è al momento la filosofia del volo commerciale, per cui oggi si cerca di avere aerei efficienti che consumano poco e quindi costano poco per dare la possibilità a una fetta più ampia di pubblico di poter viaggiare. Per cui adesso escludo che l'industria vada nella direzione di aerei supersonici. Un paio di curiosità sul Tupolev 144 sono che nel 2017 su eBay un tizio ha messo in vendita un Tupolev 144 in un'asta e quindi ha cercato di venderlo attraverso eBay. Non so se c'è riuscito oppure no, non sono riuscito a capire se in effetti poi la vendita è andata a buon fine o meno, ma una cosa davvero interessante è che la maggior parte dei 144 si trovano in Russia. C'è solo un posto nel mondo dove potete trovare un Concorde e un Tupolev 144 affiancati, proprio uno affianco all'altro. Si tratta del museo automobilistico e tecnologico di Sinsheim, spero di averlo pronunciato correttamente. Il museo si trova in Germania ed è appunto possibile ammirare i due aerei supersonici affiancati. Bene, il video termina qui, io spero che sia stato interessante, se lo è stato ricordate di mettere mi piace, condividerlo con i vostri amici e commentare se avete dei dubbi, dei suggerimenti o delle domande. Ricordate che se trovate un cuoricino a fianco al vostro commento significa che ho gradito o vi ringrazio per quello che mi avete scritto e come sempre io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.